ciao ragazzi bentornati dal vostro denar man siamo tornati su formula 1 2022 andiamo oggi a farci il gran premio di miami ragazzi prima di iniziare come al solito lasciate un bel like commentate condividete e iscrivetevi al canale per supportarmi mi raccomando arriviamo a 200 iscritti ragazzi mi raccomando iscrivetevi e fate iscrivere allora detto questo come vedete come al solito già fatto le tre prove libere ragazzi in miami è un circuito cittadino per chi non lo conoscesse è molto difficile molto difficile ha fatto un po di giri per studiare bene il tracciato e tutto quanto è una pista complicatissima sarà molto molto difficile sorpassare sarà molto difficile fare le qualifiche arrivare avanti anche perché nonostante tutto è una gara nonostante sia un circuito cittadino è una gara molto veloce e ho riscontrato che le macchine chiaramente come i ferrari mercedes e quant'altro chiaramente ci stanno davanti c'è poco da fare noi alla fine andiamo sempre sull'alfa romeo motore ferrari tutto quello che deve fare ma dell'anno scorso l'anno scorso la ferrari faccia pure schifo quindi per carità comunque noi cercheremo di dare come sempre il nostro meglio allora ci andiamo a fare adesso le qualifiche ok vediamo quello che esce fuori e da lì poi ci andiamo a fare la gara e vediamo ora capirete la difficoltà della pista la pista dove ci vuole molta concentrazione bisogna stare molto attenti e la guida è molto importante per le curve perché qua come sbagli te sfondi tutto perché come vedete ci sono barriere a destra e sinistra anche se la pista è molto molto bella siamo pronti eccoci qua salutiamo tutti allora chiaramente con le gomme rosse con le dure partiamo sempre direi di andare in pista proviamo subito andiamo a farci la qualifica vediamo cosa succede ragazzi complicatissima complicatissima ragazzi se vedete la fotocamera un po offuschiata è perché sto registrando a mezzanotte ci stanno tutte le luci accese quindi c'è un po di casino però spero mi iniziamo al massimo vai vai cerchiamo di stare dietro alle clerk proviamo ragazzi scusate se parlo poco ma è una pista come potete vedere molto complicata molto molto complicata bisogna stare attenti fare moltissima attenzione e quindi scusatemi se in questo caso lo sto parlando tantissimo ma ci vuole tanta tanta attenzione ora vedrete questa curva una pista molto molto complicata quanto siamo arrivati ragazzi mi sembra abbiamo fatto un buon giro eh mi sembra abbiamo fatto un buon giro quarti quarti ragazzi partiamo quarti come sempre le piste cittadine sono più complicate ma noi non so perché ci agevolano quindi riusciamo sempre a partire a una posizione in griglia molto alta il che è molto positivo perché nella difficoltà per come avete potuto vedere della pista c'è molto difficile sorpassare quindi se guidiamo bene potremmo rimanere alti vi aspettiamo tutti per assistere al gran premio di domani abbiamo fatto un bellissimo ragazzi una bellissima qualifica diciamo che questo tempo nelle nelle prove libere non l'ho mai fatto quindi è stata una bellissima qualifica sarà difficile mantenere per 13 giri questo risultato ci proveremo ripeto cerchiamo come al nostro solito di fare un po sportellate e mantenere la nostra posizione molto molto contento abbiamo battuto anche il nostro rivale fernando alonso perché abbiamo preso quarta posizione lui sta dietro amico mio va un pochino dietro non sciroppere i maru five e intanto omettiamo la nostra fama pilota ragazzi molto contento non mi aspettavo di fare questo risultato è una pista che mi piace parecchio ma è molto complicata come vi ho detto non riuscirò a commentare moltissimo la gara perché è complicata bisogna stare attenti ci sono due curve difficilissime in bocca al lupo vabbè si sangue freddo grazie tanto lo guida io è molto complicata bisogna stare molto attenti quindi cercherò di commentare ma scusatemi se non commenterò tantissimo perché questa pista è molto molto difficile può non sembrare ma lo è nelle prove libere dovuto avere molta concentrazione tra l'altro non sono riuscito neanche a fare il tempo che ho fatto nei quali ho fatto un tempo straordinario per la macchina che abbiamo alla fine abbiamo una ferrari come ho detto abbiamo un alfa romeo motore ferrari dall'anno scorso diciamo che è un buon risultato per il gran premio di miami l'undicesimo tracciato statunitense entrato a far parte della formula 1 gli spalti sono pieni di fans pronti a fare un tifo sfrenato per quella che si preannuncia una gara fantastica collocato sulle coste del sud est della florida il circuito di miami si snoda per 19 curve e 5 km 400 metri il layout è stato ideato per incentivare l'azione ravvicinata e garantire la massima sicurezza ai piloti e ai fans che sicuramente avranno di che divertirsi dai dai che siamo belli cari ci stanno pure i campi da tennis c'è sta tutto qua prima di partire guardiamo la griglia della gara di oggi dopo le fantastiche qualifiche di ieri charles leclerc parte dalla pole position carlos sainz è un soddisfattissimo carlos sainz quindi il resto della griglia norris e quarti dietro norris pure avanti e verstappen ragazzi sta avanti a perez abbiamo fatto veramente una qualifica eccezionale come vedete sarà difficile molto complicato ragazzi mantenere in gara anche perché le altre macchine frullano quando comunque c'è stata la mercedes che c'è sul rettilineo ci correrà dietro sarà difficile tenere dietro però che dirvi ragazzi speriamo di andare a punti speriamo di andare a punti beh immagino che comincino a sentire l'adrenalina guarda che bella safety car un po' come i guerrieri si preparano per una battaglia gli imprevisti rendono sempre nervosi ma questa per le grec sainz in termini di punteggi ragazzi nella prossima gara adesso stavo vedendo l'avevo già visto da qualche episodio ma adesso lo stavo rivedendo magari mi metto poi vediamo come esce con la fotocamera a video leggermente più alto provo a mettermi un pochino più alto perché vediamo se riuscire comunque a seguire la gara però almeno riuscite a vedere pure le informazioni che compaiono sotto che in questo momento non ci riguardano perché sono le classifiche di testa e noi non siamo là però insomma può essere anche più migliore per voi anche in termini di visualizzazione prossimo video vi devo ricordare fare questa cosa detto questo andiamo a vederci come al solito la strategia di gara ok noi facciamo sempre guida in maniera più prudente per aumentare la durata di ogni treno di gomme riducendo il numero di pit stop necessari e come al solito penso che faremo questo guida più veloce possibile risultare al massimo le prestazioni di ogni treno di gomme bilanciando il tempo perso per i pit stop aggiuntivi pit stop 1, giri 14 tempo però vedete come tempo in teoria è minore quello sopra quindi noi andiamo a farci la strategia superiore 35 gradi fanno diciamo che siamo messi abbastanza bene qui non possiamo fare granché perché chiaramente l'assetto auto lo dovevamo aver fatto prima diciamo che siamo pronti ragazzi partiamo dai quarti possiamo tranquillamente andare a correre partono i semafori partiti partiti ragazzi subito via subito al via chuck norris davanti a noi chuck norris davanti a noi carlos perez massima concentrazione abbiamo già perso una posizione ma non ce ne frega tantissimo aia come al solito mamma mia perché ci inchiodano davanti capito il problema è che ci inchiodano davanti e che cacchio dai dai tira giù dritto tira giù dritto qua ragazzi si è vettilineo si bono 2 ha fatto e sta presso da perez vedi e lui va che chiaramente è più veloce che noi noi lo cerchiamo di riprendere in curva mamma mia che battaglia ragazzi una grande sfida che rischiamo di farla finire in un botto se sto coglione non si toglie perez non ci sfondare è complicata complicata ragazzi non ci abbiamo manco il drs al momento quindi max bestappen abbiamo dato una bottarella entriamo da dentro stiamo un po' rischiando grosso ragazzi però se non guidiamo così stiamo un po' rischiando grosso però 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 abbiamo mantenuto la quinta posizione un max bestappen che prova a soppassarci ce la fa è chiaramente più veloce quindi rientriamo da dentro mamma mia che sorpassi ragazzi una gara bellissima spero vi state emozionando tantissimo perché sorpassi su sorpassi una guerra contro max bestappen che ci sta chiaramente li stiamo dando noi nel fiore della torcia da lui brutta curva bruttissima curva ragazzi io provo a mantenere un pochino ancora 13 giri 11 giri scusate a voglia eccoli qua vai vai ci dobbiamo caricare sto DRS ci serve DRS ragazzi eccoli lì che arrivano stanno tutti dietro stanno tutti dietro noi siamo quinti ragazzi un buonissimo risultato forse è così siamo andati larghi e comunque quando sei in gara c'è l'ansia di quello che te sta dietro sembra una stupidaggine ma è così c'è l'ansia e il cristiano dietro è così io provo senza farmi sgamare a chiudere un pochino le strade provo a chiudere un pochino le stradine per cercare di evitare di farmi sorpassare senza andare a fare fallo diciamo fallo senza andare a commettere nessuna infrazione in modo che il giudice di gara non ci dà penalità di RS non riusciamo a caricarlo perché purtroppo non riusciamo ad andare in scia ok finestra di pit stop aperta cercheremo poi di trovare il momento giusto per andare a fare il pit stop guarda sto Max Verstappen ragazzi una gran battaglia eh ah no Russell Russell grandissima battaglia ragazzi stiamo dando il filo da torcia la gente dice che cazzo è Denerman sta quinto classific cioè quinto nel giro e noi diciamo ma che pensate che stiamo a giocare che pensate che stiamo giocando dai dai quinto giro quinto giro quasi al termine guardate Russell come si avvicina detrito per terra ragazzi e bandiere qui rischiamo di farci male non so chi sia andato in box ma cerchiamo di vai 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 corri corri abbiamo Russell dietro siamo quarti ma tanto adesso dobbiamo fare la fermata in box pure noi tra poco e sono cazzi perché abbiamo da sostituire l'alettone perderemo sicuramente posizioni guarda sto stronzo che c'è dai botte dietro però lui punizioni e penalità no eh punizioni sta mascola Russell ci ha dato una botta ci serviva una penalità perché comunque vorrei dire non è che ci possono sventrare voglio di tutto però qualcuno si è già fermato in box noi facciamo il prossimo giro ci fermiamo ragazzi facciamo questo e poi ci fermiamo Sainz ha fatto pure l'ottimo giro dai dai spingi tutto sul pedale ci sono fermati altri box nel prossimo giro nel prossimo giro dai corri corri più veloce che puoi vai 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 butta tutto sull'acceleratore siamo primi ma chiaramente la gente andava tutta in box ragazzi adesso perderemo tutte le posizioni ma non ce ne frega niente cerchiamo solamente di recuperare quella che avevamo prima cerchiamo solo di recuperare la posizione che avevamo prima vai 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 corri 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 muovetevi tutti perfetto muoviti 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 Guarda, guarda se si sbrigano Eh Niente, abbiamo perso mille posizioni Eh, abbiamo perso 500 posizioni Ogni volta ci stanno sette ore Cioè facciamo le gare perfette Poi Ai box ci fanno perdere tutto Mick Guarda, guardalo Guarda sto faccia di fango Guarda sto faccia di fango E niente ragazzi Abbiamo perso tutto Abbiamo perso tutto Entriamo dentro Ragazzi molto aggressivi eh Senza cercando di non sfondarciare la macchina più che altro Una gara che era iniziata da paura Sta finendo in un incubo Perché tredicesimi Eravamo quinti Porca merda Non me ne frega niente ragazzi Un po' di aggressività A me me danno sempre tutte le peggio botte Mo' mi hanno rotto le palle Eh, purtroppo ragazzi Finiamo tredicesimi C'è poco da qua Eh, perché? Perché ai box Cioè abbiamo perso Tredici posizioni ai box Tredici posizioni Ci mettono una vita ogni volta Cioè ci mettono una vita ogni volta Manca punti andiamo Da quinti che eravamo Eh, guarda là dove sta Amic Sempre in combutta con Mick Schumacher Bottas è dietro di noi tra l'altro Eh, Alonso starà molto più avanti Credo, eh Credo che Alonso sia avanti Guardate lì il sorpasso Guardate lì il sorpasso Mazza, tutti i box Già ci sono nati Oh, incredibile La tifi mancava Abbiamo recuperato una posizione Ma Quattro giri ragazzi Guardatelo, guardatelo qua Cioè Becchi Mick Schumacher Li becchi tutti Capito? Becchi Mick Schumacher Li becchi tutti Non ti faccio passare Russell Te ne manna beata Venta a fa' culo Guardalo, guardalo qua Guardalo qua Guardalo qua Dai Dai che l'abbiamo preso Dai che abbiamo preso Mick Schumacher Dai che abbiamo preso Mick Schumacher Dai che abbiamo preso Mick Schumacher Eh, Russell c'ha No, vabbè No, vabbè Incredibile 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 Ragazzi Incredibile 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 Cioè Quello che è successo Assurdo Assurdo Ho frenato Ho frenato tardi Perché mi hanno incastrato Non ci si può credere 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 Eh, me voglio ritirare Me devo ritirare Certo, sì Cioè Incredibile Incredibile Ha ritirato Eh, ha sfondato la macchina Porca puttana No, vabbè Non ci si può credere Non ci si può credere Non ci si può credere Cos'è che ha fatto la differenza in pista oggi? Assurdo Credo che oggi Le condizioni della pista Come il vento E la temperatura Assurdo Fossero perfette per l'auto Se pensiamo che sono vetture Che rendono al massimo Quando le gomme vanno a temperatura Possiamo intuire Che una gara Sarà in discesa Se ci sono le condizioni adatte Cioè, eravamo decimi Mi hanno piato sui lati Io non sono riuscito Non ho visto Mi sono concentrato su di loro Non ho visto la curva Sono andato lungo Incredibile Incredibile Cioè, sta ancora al copertone L'appeterra Ha vinto pure Sainz Assurdo Assurdo ragazzi Assurdo Mi sta rodendo particolarmente Perché comunque Abbiamo fatto un'ottima gara Tutto perfetto La classifica pilota Con lo straordinario risultato di oggi Charles Leclerc passa al comando Della classifica Dunque Chi definiresti Il miglior pilota di giornata Cioè, siamo sui scioli solo noi? Daniel e Ricciardo Non solo per come vuoi Noi e Norris Capirai Cioè Magni Schumacher È l'undicesimo È rimasto Ma dai Incredibile Botta a sabbe Sta sempre là Chiaramente La domanda che mi voglio fare Aspettate Perché adesso mi sfugge Voglio capire un attimo Una cosa Punti Che Oddio Così come stavamo Prendeva comunque Zero punti Però Secondo me La possibilità di arrivare Diciamo Decimi Ci poteva essere Non so Stava poco avanti Che vi devo dire Raga È andata male È andata male È andata male È rosicato parecchio È rosicato parecchio Perché comunque non si può Cioè Non è giusto Non è giusto Vediamo Troppo Che abbiamo preso Non ci ha fatto vedere Eh sì Ci ha fatto vedere Vabbè è andato Niente Non lo vedremo Ha fatto più punti De noi Giustamente Qui ha finito pure la gara E chiaramente abbiamo preso Meno fama Perché Non abbiamo finito La 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 gara E siamo andati a finire male Che vi devo dire Che vi devo dire Sto rosicando Particolarmente Sono arrivati I nuovi pezzi Che abbiamo messo Dov'è Ricerca e sviluppo Allora Ok Abbiamo migliorato L'ala secondaria Quindi andiamo a migliorare L'ala terziaria Questo non disponibile Abbiamo migliorato Anche la testata Quindi andiamo A fare Anche Sistema di iniezione E Carburante Del carburante Un nuovo sistema di iniezione Del carburante Nebulizza la riviscella In maniera ancora più fine All'interno della camera di combustione Risultato Processo di combustione Più rapido Procedendo più energia Quindi dovremmo correre più Vediamo 24 giorni Capirai Completato In fase di sviluppo Ok Perché ragazzi Quando noi mettiamo questo Praticamente Qui In questa schermata qua compare Possibilità di riuscita Se metti Lento 20% Per dire Se metti Rapido 50% E Chiaramente Rapido Ci mette 3 giorni Lenta Ce ne mette 10% Però Però Quel 20% Che vuol dire Che comunque Dopo 10 giorni Potrebbe essere pure Che loro ti dicono No L'aggiornamento è andato male Quindi lo devi rifare Per denarti 10 giorni Questo è successo Infatti Come vedete Perché questo Già stavamo al secondo Aggiornamento E questo al secondo Vedete qua Siamo ancora al primo E Così via Questo l'abbiamo fatto oggi Ma Come avevo fatto vedere L'avevo già fatto Nel video scorso Quindi Questo era andato Non era andato a buon fine L'ho dovuto rifare Quindi oggi Abbiamo iniziato Il secondo Aggiornamento Mentre invece Per esempio Di questo Mancano 4 giorni Quindi già È da un po' Che sta a lavorare Comunque Vabbè Giusto per spiegarvelo Spero di essermi spiegato Così In maniera un po' più dettagliata Anche se Non è Che ne va molto Del gioco Cioè Ne va del gioco Ma Sostanzialmente Poi In termini di gare E Di specifica Poi Frega niente Io basta che Preonto i I I pezzi E corro De più Però vedo Qualche dettaglio Prossimo Gran premio Di Spagna Prossimo Gran premio Di Spagna Che vi devo dire Ragazzi Ho rosicato Voi potete Vabbè Potevate Iniziare la gara Potevi rifarla Però Secondo me Stiamo giocando Comunque Facendo una cosa Un gran premio Realistico Anche per avanzare Tutto quanto Se ci rimettiamo Ogni volta A fare gare Finiamo dopo domani Quindi alla fine Vorrei comunque Fare una carriera Un pochino longeva Cambiare poi scuderia Arrivare a fine stagione E quindi Se in realtà Te si sfonda la macchina Ti ritiri A noi Cioè se si sfonda la macchina E purtroppo Ci siamo ritirati Oltretutto Era pure il dodicesimo giro Mancavano due giri Era Una bella cosa Abbiamo fatto Tutta una bella Una bella situazione Però Che vi devo dire ragazzi Va così Va così Gioco straordinario Io consiglierei A chiunque I giocaci A chiunque Sia appassionato Di Formula 1 Questo gioco Veramente quest'anno È bellissimo Quindi ve lo consiglio Da morire Detto questo Ragazzi Io spero Che il video Nonostante che sia Non sia finito Bene Vi sia piaciuto Se così fosse Lasciate un bel like Commentate Condividete E iscrivetevi al canale Arriviamo a 200 iscritti Iscrivetevi a tutti i miei canali social Io vi do appuntamento Al prossimo episodio Un saluto Dal vostro De Armin Ciao Ciao